Flussi turistici record concentrati nella bella stagione, più precisamente tra aprile e ottobre, periodo nel quale si realizza l'83,8% degli arrivi, oltre 1,4 milioni, e l'87,5% dei pernottamenti, quasi 3,9 milioni. Sono i numeri principali che si riferiscono allo scorso anno in provincia di Como. In particolare è tra maggio e ottobre che si concretizzano i numeri più alti. Guardando all'intero anno, le strutture maggiormente scelte sono quelle alberghiere, ma nei mesi clou si registra un picco anche nell'extra alberghiero. Si tratta prevalentemente di visitatori stranieri che tra aprile e ottobre superano gli italiani. I principali paesi di provenienza sono Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Svizzera. I dati, che emergono dall'analisi dei flussi turistici mensili nell'area lariana della Camera di Commercio di Como e Lecco, evidenziano livelli superiori al 2019, anno di riferimento pre-Covid. L'andamento turistico lariano è più dinamico di quello lombardo. In provincia di Como il trend degli arrivi lo scorso anno è risultato in crescita. La permanenza media si attesta sui due giorni e mezzo e oscilla dai due giorni degli italiani ai quasi tre degli stranieri, numeri che restano in linea con il periodo prepandemico. La forte concentrazione nei sei mesi centrali dell'anno si evidenzia nell'analisi, accentua il rischio di overture esminalta a stagione. Intanto le prime indicazioni del 2024 sembrano evidenziare una possibile frenata e una sostanziale conferma dei numeri dell'anno precedente.